Ciao ciao youtube, benvenuti a questo video ovviamente devo fare sempre i video di notte vabbè allora ragazzi di che parliamo in questo video faccio un video corto perchè non dovrei dire tante cose citto durò 8 minuti ma comunque andiamo subito all'argomento perchè appunto non voglio fare figura di merda e anche se non devo dire niente questo video durerà 20 minuti allora iniziamo a dire l'argomento Federico Chiesa perchè durante la partita Fiorentina-Atalanta la Fiorentina vince 2-0 veramente un colpaccio perchè diciamo che era uno scontro diretto per l'Europa League e la Fiorentina fa il colpaccio e vince perchè l'Atalanta diciamo pure gli anni scorsi aveva fatto benissimo sia in Europa League sia in campionato e quindi aveva avuto aveva fatto più esperienza rispetto alla Fiorentina comunque non lasciamo a parte questa cosa il primo gol della Fiorentina lo sblocca Verretto sul calcio di rigore però col calcio di rigore è molto ma molto dubbio perchè Chiesa, sappiamo tutti Federico Chiesa, giocatori che a me piace veramente molto di classe che sicuramente senza dubbio sarà uno dei titolarissimi in futuro della nazionalità italiana anche se non lo è oggi cioè pure oggi si meriterebbe il posto da titolare nell'Italia per come ci siamo messi e quindi veramente un prospetto molto ma molto interessante quest'anno già molti club si hanno messo gli occhi su di lui ma parliamo di big club italiani per esempio Napoli, Roma, Juve, Milan, Ilder sempre chi stessi addirittura un club è arrivato a proporre una cifra attorno agli 80 milioni vicino agli 80 milioni quindi significa che per Chiesa si potrebbe pure meritare la decina della Fiorentina e John Cibola a Sony non so perchè mi provo a dirlo non lo so comunque è molto ma molto giovane quindi c'è un peso sulle spalle ma non lo provo perchè ogni anno ogni partita è sempre il leader e fa sempre cose benissime quindi significa che Federico Chiesa sia il leader della Fiorentina figuriamoci in futuro ovviamente cifre giustissime però se Chiesa se ha voluto rimanere Chiesa significa che proprio ha voluto rimanere fedele su colori e rifiutare offerte importantissime gli va dato atto assolutamente invece se proprio la dirigenza che non l'ha voluto vendere anche per 200 milioni gli si è impuntato no Federico Chiesa se ne vuole andare non me ne frega deve rimanere per forza si deve inchiodare a Firenze onore alla dirigenza anche se tenete contro voglia non è una buona cosa ma secondo me non è proprio contro voglia perchè per come sta giocando veramente ha voglia di spaccare il mondo e sono mi piace molto Federico Chiesa ce l'ho detto un esterno ma sapete per me il rigolo è molto dubbio perchè è una simulazione una simulazione perchè il difensore non l'ha toccato proprio ma sapete che per me è un futuro certo quest'anno non è rimasto ma per me l'anno prossimo cambierà squadra Federico Chiesa vi dico dove andà alla Juve alla Juventus se non è che sono esperto di mercato sia ufficiale già firmato a marzo Chiesa firmerà con la Juve no non so niente però è un'ipotesi no per me per me Chiesa andrà alla Juve per me la Juve già messa sotto occhi Chiesa la Fiorentina una cifra 60-70 milioni quella cifra là la Juve che si rinforzerà Chiesa che vorrà andare alla Juve e poi direte perchè ti viene in mente questa ipotesi la simulazione la simulazione cioè addirittura se si ruba con la Fiorentina figuriamoci con la Juve ha un futuro certo è un predestinato ragazzi ragazzi comunque questo video è finito qui per scherzare però ovviamente veramente per me andrà alla Juve facciamo questa scommessa ferite con i Chiesa e l'estate prossima andrà alla Juve comunque ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video ciao gioventù ciao 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 ciao